Tragedia Shalme Sheik. Un bimbo palermitano di 6 anni muore, gravissimo il padre, in terapia intensiva. Dovevano trascorrere in ferie 15 giorni a Shalme Sheik, ma la vacanza si è trasformata in un incubo per una famiglia palermitana. Andrea Mirabile, di solo i 6 anni, è morto pare a causa di un'intossicazione alimentare, mentre il padre Antonio sarebbe grave. È ricoverato in terapia intensiva, anche se le sue condizioni sembrerebbero migliorare. «E' iniziato tutto venerdì scorso», racconta lo zio materno del piccolo Roberto Manesperti, «quando i miei parenti sono stati colti da malore improvviso. Un'intossicazione alimentare che lì è molto frequente. Mio cognato adesso ha un tasso di ossigenazione bassissimo e non può viaggiare. Mia sorella, che è incinta, adesso sta un po' meglio, ma non può tornare in Italia», spiega. Purtroppo le notizie sono poche, non si ha un bollettino medico. Ieri sera intanto all'emisterio del Ministero della Salute egiziano si è recato il reparto affermando che per due volte hanno fatto l'esame tossicologico e hanno escluso l'avvelenamento. Restano ancora un mistero, dunque, le cause della morte del bambino. E i familiari attendono di conoscere il referto dell'autopsia eseguita dai medici egiziani. Roberto Manesperti lancia un nuovo appello ad aiutare i familiari bloccati in Egitto. Mi rivolgo a tutte le istituzioni e autorità competenti, dice, sia a quelli locali, il comune di Palermo e la regione siciliana, che a quelle nazionali, affinché tutti si possano adoperare per fare rientrare casa mia sorella e mio cognato dopo questa immane tragedia che ci ha colpiti e che ci ha lasciato una ferita che ci porteremo a lungo. Sequestro preventivo d'urgenza adoperato dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo nei confronti di Massimiliano Lannino, 46 anni, ispettore di vigilanza dell'Inps, accusato di aver truffato l'ente previdenziale per 96 mila euro. Le indagini dei finanzieri del Nuclo di Pulizia Economico-Finanziaria avrebbero accertato che l'impiegato non avrebbe comunicato alla stessa Inps nessun conflitto di interessi, come quello di svolgere un'attività di collaborazione professionale e continuativa con uno studio legale. La comunicazione sarebbe prevista dal contratto e avrebbe comportato il passaggio dal tempo pieno al part-time e dunque una riduzione del 50% dello stipendio, nonché la perdita dell'indennità connessa alla funzione di ispettore. Il provvedimento di sequestro è stato convalidato dal GIP per quasi 96 mila euro, cioè tra quanto effettivamente percepito dal dipendente in qualità di ispettore di vigilanza dal 1 gennaio 2018 e quanto gli sarebbe spettato con il contratto part-time. Arriva la condanna dal Tribunale di Palermo, a 5 anni e 2 mesi per violenza sessuale, al ginecologo ed ex primario dell'ospedale palermitano di Villa Sofia, Biagio Edile. L'indagine era stata avviata nel 2016 dopo la denuncia presentata da una donna tunisina. Il medico però ha sempre le ha spinto le accuse. La donna si era rivolta al reparto di ginecologia diretta proprio dallo stesso primario e arrivata da clandestina aveva chiesto di essere visitata per risolvere un problema. Durante le visite però sarebbero avvenuti i casi di violenza. Alla parte civile è stata riconosciuta una provvisionale di 10 mila euro. Il danno complessivo sarà stabilito in sede civile. Adile intanto è stato anche interdetto per due anni dall'esercizio della professione. Si trova ricoverato in isolamento nell'ospedale San Marco di Catania un paziente nel quale è stato riscontrato il vaiolo delle scimmie. A renderlo noto è il direttore generale Gaetano Sirna. Martedì 5 luglio l'uomo si sarebbe presentato e rientrato da poco dall'estero con sintomi che hanno fatto subito pensare a un sospetto caso di malattia vaiolo delle scimmie. Il paziente è stato immediatamente preso in carico dal personale sanitario e trattato secondo i protocolli previsti in questi casi. Dopo i primi rilievi è stato quindi trasferito ricoverato nell'unità operativa complessa di malattie infettive nell'ospedale San Marco e posto in isolamento. La diagnosi, aggiunge Sirna, è stata confermata soltanto ieri da esami di laboratorio. Le condizioni cliniche del paziente sono discrete con un quadro clinico tipico. Tengo a precisare, conclude il direttore generale Sirna, che si tratta di un caso di importazione della malattia e quindi non di contagio avvenuto nel territorio etneo. La malattia tra l'altro si trasmette non per via aerea ma per contatti stretti. In meno di due mesi avevano messo a segno ben cinque furti e una rapina. Così gli agenti della squadra mobile della questura di Siracusa e del commissariato di Avola hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una coppia di noto, un uomo di 25 anni e una donna di 32. La coppia, che talvolta operava insieme altre volte singolarmente, da settembre a dicembre 2021, aveva perpretato furti nei confronti di alcuni supermercati di Siracusa di Avola, nonché dell'autogrill sull'autostrada Catania-Siracusa, mentre la rapina è stata commessa all'interno di un'attività commerciale di Siracusa. I due malvimenti, già conosciuti peraltro alle forze di polizia, avevano messo a punto un modus operandi ben consolidato che gli consentiva di perpretare fino a due episodi deluttuosi nella medesima giornata. La complessa articolata indagine, effettuata anche grazie ai filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi dove sono stati consumati i reati, ha consentito agli inquirenti di identificare dei soggetti.